Ciao a tutti i piccoli clienti e bentornati sul mio canale! Oggi siamo qui su Brookhaven perché come sapete è quasi Pasqua e ovviamente è uscito il nuovo aggiornamento per Pasqua 2024 qui dobbiamo iniziare a fare la nostra caccia alle uova 2024 e ovviamente non faremo facile, medio, difficile ma andremo direttamente nell'estremo quindi sarà piuttosto difficile ovviamente voi potrete capire quando troverete un uovo con un suono di Brookhaven come volete io sono felicissimo di questo nuovo aggiornamento di Pasqua perché come sapete quest'anno non sono le macchine del 2021, 2022, 2023 qui siamo di nuovo in un altro tipo di macchine ovviamente secondo me il prossimo anno verranno altre macchine ma non parliamo del 2025 perché non voglio invecchiare così velocemente e ovviamente adesso iniziamo ovviamente però non dimenticate di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e mettere like a questo video quindi adesso andiamo subito a iniziare la nostra giornatina e adesso andiamo direttamente perché stiamo andando da quella parte? non ho capito quindi praticamente adesso dobbiamo andare da questa parte dobbiamo andare nella prigione 2 e dietro al letto a castello ci sarà un uovo ecco qua il nostro primo uovo qui adesso troveremo il secondo da qualche parte ah no è qua il secondo perfetto qui adesso abbiamo il secondo e dobbiamo andare subito a prendere il terzo prendiamo il nostro bellissimo skateboard aumentiamo un pochino la velocità non andiamo troppo veloce perché altrimenti non riesco a controllare la velocità del mio skateboard e adesso andiamo da questa parte e troveremo un uovo non nella parte del tizio al volante ma dall'altra parte dove c'è una specie di televisione ma non è televisione e adesso andiamo a prendere un altro uovo che è alla banca ovviamente non è molto lontano da qui qui sotto abbiamo un uovo perfetto adesso andiamo da questa parte e dobbiamo andare dietro ai vestiti delle ragazze a prendere il nostro uovo che era qui all'angoletto che a quanto pare ehm ho già preso ci mancano 30 uova da trovare che sono un bel po' e adesso andiamo nell'ufficio postale per prendere il nostro prossimo uovo il nostro sesto uovo sarà in mezzo alle scatoline è già in mezzo alle scatole ah si è qua dietro perfetto e adesso andiamo a prendere un altro uovo che si trova a scuola ovviamente è la nostra scuola meravigliosa dobbiamo andare là sopra prendere una scala dov'è? ecco metterla qui e là sopra c'è un uovo ecco ah ok ecco abbiamo preso il nostro settimo uovo e adesso andiamo da questa parte allora che lenti che siamo però siamo a 40 di velocità adesso adesso dobbiamo uscire da qui e andare in ospedale questa parte wuhu no non ce l'ha fatta da questa parte dobbiamo andare su qua questa parte ok qui giù e troveremo questo uovo in mezzo all'albero no sono caduta aspettate no ce la posso fare? no non ce la posso fare ce la posso fare? no non ce la posso fare abbiamo già la scala qui perché non la sto usando? ah no l'avevo già preso no sono passata sotto la scala che sfortuna vabbè è Roblox ragazzi adesso andiamo qua sotto e voilà un altro uovo nell'X-Ray adesso dobbiamo andare al al municipio vi veniva da dire l'unicipio non so perché e dobbiamo andare da questa parte nella piscina sotto le scale e troveremo un uovo sotto acqua perfetto adesso andiamo avanti ovviamente velocemente nell'arcade per trovare il nostro prossimo uovo da qualche parte ah sì qua in mezzo alla moto e qui in mezzo all'out of order cioè quello rotto non riesco a passarci eccolo ho preso e adesso andiamo a prendere il nostro prossimo uovo che si troverà al supermercato questa parte l'ho appena preso l'ho appena preso ragazzi vabbè non importa dettagli adesso andiamo a prendere il nostro uovo che si troverà da quella parte voilà entriamo qua dentro dovrebbe esserci un uovo qua da qualche parte ecco diventiamo 13 ok e adesso andiamo là sopra che ce ne dovrebbe essere uno da queste parti nascosto ecco nel nulla e adesso andiamo a prendere il nostro prossimo uovo che siamo qui a 14 ragazzi dobbiamo venire qua no eccolo qua dietro un uovo blu ecco qua preso dove si dove c'è il car wash e adesso andiamo al food mart ovviamente ce n'è uno anche qui da qualche parte che è in l'angoletto no ok ecco l'abbiamo preso ok ci siamo e adesso dobbiamo andare lì ovviamente siamo già tutti vicini a parte che questa è tipo una strada è tipo una caccia al tesoro è una caccia al tesoro ma vabbè non importa non so come spiegarlo adesso andiamo qua dietro ho fatto un giro per niente vabbè qua dietro troveremo un altro uovo siamo a 17 ok e adesso andiamo allo yacht da qui andiamo subito allo yacht ragazzi perché perché sì ovviamente così lontano perché così lontano ok eccoci qua ok adesso andiamo allo yacht corriamo 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 ovviamente non so se vi ricordate questo ragazzi perché ovviamente è molto molto vecchio poi ci sono anche i giocatori nuovi dobbiamo andare dietro alla doccia e qui troveremo il nostro uovetto eccolo qua vicino ai robbi esplosivi l'ho preso per sbaglio ok adesso andiamo fuori da qui il prossimo uovo si trova tipo vicino alla cascata però dobbiamo farci una piccola stradina dobbiamo prenderci una piccola stradina quindi prendiamo lo skateboard dobbiamo prenderci anche una bella torcia perché altrimenti non lo vediamo molto bene andiamo così seguiamo la strada qua dietro non là ma qui sì qua dietro la roccia qui dietro troveremo il nostro uovo guardate che bello ok adesso usciamo da qui usciamo da questa parte non mi ricordo più la strada eccoci qua adesso dovremo andare nella nella casetta per il campeggio e dobbiamo andare sempre nel segreto ci sono un sacco di segreti qua ula eccoci qua c'è un uovo qua dietro vicino alla bambola strana e lì con lo specchio strano sono uscita dalla parte sbagliata andiamo da questa parte ok e il prossimo uovo si troverà sempre al municipio però tipo sul tetto sarà tipo collegato tra il tetto del municipio e il tetto della stazione dei pompieri cioè no dall'altra parte della mappa ok andiamo sbrigandoci prendendo la nostra bella moto rossa eccoci ok adesso sbrighiamoci e poi eccolo là il nostro uovo e si vabbè sono caduta il nostro uovetto fatemi prendere la scala eh si un po' più di intelligenza la potevo usare prima però ok l'abbiamo preso un altro uovo ci manca poco ragazzi non ci manca tantissimo adesso dobbiamo andare fatemi pensare dobbiamo andare da quella parte e dobbiamo andare un po' più là muovendoci velocemente andiamo veloce 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 ragazzi ok qui dietro da qualche parte dovremmo trovare l'uovo eccolo qua è lo stesso posto di un uovo dell'anno scorso però vabbè il passato è passato lasciamolo andare quindi adesso dobbiamo ritornare al mare ok dobbiamo ritornare al mare vroom 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 siamo 200 e stiamo andando così lenti ok adesso stiamo iniziando ad accelerare un po' andare da quella parte ok abbiamo un uovo là sotto l'albero eccoci qua adesso il prossimo uovo dovremmo trovarlo all'aeroporto boh come ci arriviamo vabbè qui è vicino watch walk yup voilà ok boom ok come è che siamo saliti ok da qualche parte dovrebbe essere qua oddio ragazzi non mi ricordo più dovrebbe essere nell'angolo là sopra eccolo sapevo che era qua eccolo qua no non ci arrivo aspettate preso eccoci qua ragazzi adesso andiamo a prendere un altro uovo tra le isole un'isola vabbè andiamo con le case ok dietro da qualche parte ci dovrebbe essere un uovo tra le palme tra le radici delle palme forse da questa parte no non credo oppure da un'altra parte vediamo eccolo qua ecco un uovo qua dietro all'isola e adesso andiamo nell'altra che ci dovrebbe essere un altro uovo in tutte e due le isole ci deve essere ok quindi dobbiamo andare da questa parte eccolo qua tra le radici nel posto marroncino adesso andiamo avanti dobbiamo andare nella stalla dei cavalli facendo così perfetto dobbiamo andare là dentro cos'è che mi ha fatto andare storto non ho capito ok voilà qui dietro adesso dobbiamo andare avanti nella montagna lassù ci dovrebbe essere un uovo tra gli alberi sarà piuttosto difficile da trovare dato che è vicino e in mezzo agli alberi però adesso andiamo a vedere nel frattempo la moto sta cadendo è già laggiù? vabbè adesso ci concentriamo più nel uovo che dobbiamo trovare non è quello pensavo che avevo già trovato l'uovo e ho detto ah no è troppo semplice e alla fine era una radice ok eccolo qua un uovo in mezzo agli alberi adesso andiamo a prendere un altro uovo che è in mezzo al nulla che in tutto dovrebbe essere dall'altra parte della mappa prendiamo la mia moto sperando che non cada senza di me non cadere vabbè togliamo perché è caduta non doveva cadere non cadere non cadere non cadere ci devo salire io eh finalmente ok voilà stavo volando via stavo volando via senza di me adesso andiamo dall'altra parte della mappa con la mia patente ovviamente che bella patente mi hanno insegnato benissimo adesso dobbiamo andare da quella parte è tra gli alberi tutto da solo quel quel bello ovetto giallo perfetto adesso ragazzi dobbiamo andare nel eagle view qui da questa parte dobbiamo vedere un po' in giro e ci dovrebbe essere un uovo vicino agli alberi ah no è vicino agli alberi qua sotto trovato ok proprio là dietro è il segno dove dovete spawnare per prendere la casa e non ci arrivo ok ci siamo il prossimo uovo ce ne mancano solo 5 ragazzi non ci posso credere il prossimo uovo lo troveremo lo troveremo laggiù aspettate un secondo andiamo a vedere ok muoviamoci sempre 200 per fortuna quindi adesso da questa parte voilà dovrebbe essere qua dietro qua dietro qui dietro dovremmo trovare un uovo se magari fatemi vedere perché non riesco a mettere questo sacco a pelo normalmente ecco ce l'ho fatta sono bravissima ok ce l'abbiamo fatta e qui dietro ci dovrebbe essere l'uovo adesso dobbiamo spawnare qua vicino perché il prossimo uovo si trova là dietro aspettate un secondo andiamo velocemente che ci mancano soltanto 4 uova e avremo finito la nostra caccia dobbiamo andare qua sotto e fare lo stesso glitch ecco ce l'ho finalmente fatta e qui dietro dovremmo un uovo giallo io l'ho trovato giallo non so voi e adesso dobbiamo tornare indietro andare da questa parte a prendere la nostra moto dobbiamo andare di nuovo alla scuola così voilà ok intanto la mia moto è volata via dobbiamo andare là dietro e troveremo questo uovo vicino all'albero ecco qua ce ne mancano solo due ragazzi solo e soltanto due adesso ragazzi dobbiamo tornare dentro alla scuola andiamo velocemente e dovremmo trovare un altro uovo da questa parte dietro alla pianta adesso ce ne manca solo e soltanto uno e avremo finito la nostra caccia e finalmente potremmo avere questo veicolo super strabello e azzurro però adesso ragazzi dobbiamo andarci a fare un po' i capelli a prepararceli per una bella festa quindi adesso dobbiamo andare dalla parrucchiera da quella parte e dobbiamo sistemarci un po' i capelli o dovremmo trovare un uovo qua dietro e qua dietro troveremo finalmente cioè prenderemo finalmente guadagneremo la nostra bellissima macchina azzurra eccoci qua veicolo unlocked ragazzi finalmente abbiamo preso il nostro veicolo super strabello e azzurro e adesso lo proveremo insieme oggi mio cugino non è con me per provare questa meravigliosa macchina gigante madonna me la immaginavo più piccola ma guardate pensavo che era più piccola di così non così alta peccato che mio cugino non è qui con me per provare questa delizia chissà se si può anche mangiare guardate qui che bella e adesso la proveremo insieme no posso sbagliato ha pure una fiamma qua dietro e c'è un bottone uh figo oddio ci fa sparare i laser oh mio dio abbiamo tantissime modalità per questa macchina allora fatemi cliccare un'altra volta oddio come faccio ecco uh anche con le uova questo ah ok quindi io preferisco questa modalità guardate che bello uh posso distruggere tutto accelerare tutto con questi laser meravigliosi che io ho su questa bellissima macchina proviamo ah no ce l'ho già ho un'idea proviamo a mettere eh questo oh sono volata ok proviamo a mettere questo ovviamente questa cosa la farò con tutte le macchine che mi saranno date oppure che troveremo non so tipo con le cacce al tesoro andiamo un po' ok adesso andiamo un po' con il turbo andiamo velocemente dobbiamo far volare questa macchina solo che va un po' lenta wow perché è tipo stra gigante che bella questa macchina è super stra bella ragazzi quindi io vi consiglio di trovare tutte queste uova per guadagnarvi questa bellissima macchina ovviamente noi ci vediamo prossima con la nuovissima avventura e mi raccomando non vi dimenticate di iscrivervi al canale cliccare la campanellina e mettere like a questo video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo con una nuovissima avventura ciao mua